Ecco una terrazza segreta in Duomo a Milano che sicuramente non conosci. Da qui potrai ammirare una favolosa vista non solo sul Duomo ma anche sui grattacieli di City Life. In più è una terrazza perfetta per goderti un ottimo aperitivo con sfiziosi stuzzichini accompagnati da un buon drink rinfrescante. Troverai questo panorama mozzafiato sulla terrazza di Mediterranea in via Santa Marta e tu lo conoscevi?